Buongiorno e benvenuti alla Rassine Stampa di oggi, 6 novembre. Cosa succede? Vi devo dire la verità che oggi sono stato particolarmente colpito, anzi colpito in maniera unica, da una paginata intera, scusate se parlo di me, fatta dal foglio quotidiano sul mio libro, che si chiama Le tasse invisibili. Perché sono stato particolarmente colpito da quello che ha scritto Claudio Cerasa, una pagina intera dedicata? Perché alcuni di voi mi dicono sui giornali, quei pochi di voi che oltre alla zuppa leggono i giornali, non si parla del tuo libro, oggi ci sono le anticipazioni di tanti altri libri, non ve lo sto a dire. In effetti i libri, come disse qualcuno, sono una caratteristica degli italiani, il 50% degli italiani scrive libri, l'altro 50% non li legge, tutti scrivono un libro, oggi tutti scrivono un libro, affinanco io. Però perché vi dico questo? Perché molti si stupiscono e dicono, ma Nicola è possibile che il tuo libro, che parla di tasse, oggi ci sono le tasse, parla esattamente delle tasse che stanno vendendo oggi, tasse invisibili, insomma non venga recensito dai grandi giornaloni. Io dico che è normale, che è normale che il mio libro non sia recensito e che non devo fare neanche troppo l'offeso piagnucolante. Se io parlo male dei giornali, perché i giornali devono star lì a parlare di me? E d'altronde ci siete voi, no? C'è Facebook, c'è Instagram, c'è YouTube, c'è il sito NicolaPorro.it. Noi disintermediamo l'informazione. Quindi, tranquilli e iniziamo subito con un omaggio a quello che ha fatto omaggio a Porro. Perché lo faccio l'omaggio a Cerasa? E non, voglio dire, sa benissimo Cerasa quante volte ho parlato male della loro posizione filo giallo-rossa, folle del foglio e anti-salviniana del foglio, ma oggi Cerasa sull'Ilva scrive il pezzo migliore di tutti quanti i giornali. L'Italia si è trovata a dover garantire ad uno straniero uno scudo penale. Questo è il problema, dice Cerasa. Riguarda la questione Ilva, lui coglie esattamente non il dito ma la luna. Cioè, perché in questo paese noi dobbiamo garantire uno scudo penale? Perché questo è il paese, non solo a Taranto, ma in cui la magistratura fa come cavolo gli pare e fa esattamente il contrario di quello che scrive Emiliano, magistrato, diventato governatore della Puglia, e dice, ma scusate, gli hanno detto di chiudere entro il 13 dicembre l'alto forno numero 2? Beh, ma la magistratura è ragionevole. La magistratura poi alla fine, se vede che loro fanno quello che dice la magistratura, poi potranno non sequestrarlo. Il sovrano è diventato cazzo, il sovrano! Sono loro che decidono se un alto forno è acceso o non è acceso. E vi spiego una piccola cosa. È la stessa magistratura ragionevole che sequestrò 1,2 miliardi di prodotti dell'Ilva fermi sui piazzali perché erano corpo del reato e in quel momento giravano gli interessi, non vendevano, perdevano quote di mercato e questi sono ragionevoli. Ha ragione, ha ragione Cerasa. Il problema dell'Ilva non è tanto che questi se ne vanno via, non è solo che perderemo 20.000 posti di lavoro, non è solo che perderemo l'1,4% del nostro PIL che già sono delle cose gigantesche, ma sapete qual è il vero grande problema? Che in questo paese per operare è necessario uno scudo penale! Vi sembra normale? Io vi chiedo, vi sembra normale? È un paese normale! Poi oggi, mi sembra, su Italia Oggi, Chico Testa dice, beh, l'Italia fa una figura tremenda, tra l'altro me diverte moltissimo questi ex ambientalisti che poi passano per la presidenza dell'Enel e diventano, come me, dei rigorosi, anti e demagogici. Però va benissimo, Chico Testa. Più siamo e meglio è. Ma il punto che lui dice, dice, l'Italia è sputtanata, eccetera, attenzione, attenzione, l'Italia non è sputtanata, perché quando gli italiani hanno provato a comprarsi fin in cantieri, ha comprato a comprare San Nazer, il mitico Macron, che piace appunto al foglio, a tutti quanti, eccetera, rimangia la parola che si era data e quindi non fa comprare agli itali i cantieri e fanno tutta quella specie di pasticcio che poi ha portato a una, come possiamo dire, a una mediazione assurda. Perciò il problema non è che è l'Italia che è sputtanata, perché anche in Francia non riesce a fare bene gli affari se poi il governo ti ci si mette contro. Il problema per il quale l'Italia è sputtanata e di cui la gente non ha il coraggio di parlare seriamente sui giornali, sapete qual è? È che c'è una magistratura che decide per la politica, la politica industriale. Repubblica Arcelor avrà lo scudo, ma alza il prezzo, non basta lo scudo. E la seconda tesi è proprio questa, cioè che Arcelor Mitra in realtà ha preso questa scusa e la sua amministratrice delegata Morselli questa scusa per andarsene via. Può anche darsi. Io non lo escludo, non conosco i fatti, non sono sicuro come lo sono loro. I fatti ovviamente diciamo delle indiscrizioni di cosa sta pensando Arcelor Mitra, però una cosa fatemela dire, se il Tribunale di Taranto chiede a una società straniera che sta arrivando a Taranto, ha investito 4 miliardi, 1 miliardo e 2 nelle riconversioni ambientali, ha ricomprato un'azienda, si è portato 10.700 persone sul groppone, bene, il Tribunale di Taranto appena arriva gli dice di chiudere un alto forno e chiudere un alto forno non è spegnere un interruttore, poi lo devi riaccendere, costa milioni e milioni di euro, insomma qualche preoccupazione ce l'ha. In realtà poi il governo, secondo tutti quanti li retroscena, sta pensando a un decreto che in realtà se dovesse arrivare sarebbe meglio anche del precedente, sarebbe un decreto che dà lo scudo penale, erga omnes, non soltanto all'Arcelor Mitra, non male se ci fosse, voglio dire da una merda che abbiamo pestato potrebbe uscire qualche cosa di decente per il paese. In realtà poi i giornali si interrogano molto su questa vendetta della Lezzi, ex ministro del Sud, la passionaria prima della TAP, e non c'è riuscita, quella che ha detto che mi vorrebbe prendere a calci nel sedere, la Lezzi disse voglio prendere a calci nel sedere Nicola, tra l'altro il suo compagno qualche volta a calci nel sedere li prende, ma non a me, ma ad altri, diciamo, miei amici, perché è una, diciamo, è un nucleo, è un nucleo politico piuttosto focoso. Beh, insomma, la vendetta della Lezzi dicono tutti quanti, perché dice Folli, ma non solo Folli, anche il Foglio, che siccome non è più ministro, adesso può fare la birichina, in realtà secondo me sbagliano sia Folli o sia Folli, perché conoscendo la Lezzi, queste posizioni antisviluppiste, ridicole, diciamo, contro la TAP, contro l'ILVA, è sempre stata la sua, così come quella di Emiliano, che dice quello che ha detto. Travaglio, che è esattamente la Lezzi, appunto, dice primo caso al mondo di un imprenditore che pretende di operare violando le leggi, come al solito violando. l'unico neurone, l'unico neurone, perché poi qua ci sono i due codici, procedura penale e procedura civile, anzi, due codici penali, anzi, neanche quello civile, qua c'è i due codici, e in mezzo ai due codici c'è un neurone, Travaglio. Questo neurone non capisce che non vogliono, come dice lui, operare violando le leggi, vorrebbero operare senza magistrati che gli sequestrano, gli tolgono, gli indagano, gli arrestano, preventivamente. Per esempio, Travaglio forse dimentica che quel famoso disastro ambientale di cui parla nel suo pezzo della famiglia Riva, eccetera, non ha avuto neanche una sentenza di primo grado, neanche una sentenza di primo grado, e che tutti quanti i decreti del governo sono stati impugnati dai magistrati che non ci stanno, e la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno detto guardate che la politica industriale in questo paese non la fanno i magistrati, ma fino a prova contraria la fanno i politici, è difficile spiegarglielo. Bellissimo oggi il pezzo di Aiello sul messaggero che spiega tra l'altro sentendo un rappresentante della FIOM che dice che sta lì in loco Emiliano di noi non ha mai capito nulla, Brancola nel buio dice stupidaggini tipo quella della decarbonizzazione perché arriva Emiliano e si decarbonizza la produzione dell'acciaio così, in un Fiat grandissimo. Bella, vi segnalo l'intervista a Fioramonti perché forse il peggiore dei ministri di questo governo, diciamo quello il toninelli dell'istruzione se ne andrà via perché dice io sono un uomo di parola nell'ultima riga se non mi date 3 miliardi per l'istruzione me ne vado e comunque l'altra tesi straordinaria per farvi capire il tono della manovra mettere tasse di scopo su un piccolo pezzo da pagare oggi per avere meno costi domani. Io vorrei segnalare a Fioramonti una nuova tassa la scrivo nelle tasse invisibili che lui potrebbe fare per sopportare meno costi sociali potrebbe mettere una piccola tassa su tutti coloro che giocano a calcetto i 40 anni sopra i 40 anni ovviamente chi gioca a calcetto sopra i 40 anni è molto facile che si faccia male quindi perdite di giornate di lavoro servizio sanitario nazionale rimborsi assicurazione quanto costa il farsi male a giocare a calcetto quanto costa non so fare attività mangiarsi la fiesta ecco troviamo migliaia di tasse di scopo e affidiamone soprattutto a Fioramonti e questo sarebbe un bel paese liberale sulla manovra in realtà poi secondo il sole 24 ore si andrà a una rimodulazione della plastic tax e sulle auto aziendali si toglieranno le attuali auto aziendali dall'aumento delle imposte e barranno solo su quelle passate Bonometti intervistato grandissimo Bonometti presidente uno dei pochi industriali confindustriali che c'è un'industria serissima dice questa è una manovra che ha danni incalcolabili per l'economia poi fantastica anche l'altra questione cioè Mattarella ieri alla commemorazione di Zaccagnini se la prende con Ruini che sul Corriere della Sera dice che voglio voglio dialogare anche con Salvini è una cosa pazzesca che il presidente della Repubblica si prenda la briga di contestare un vecchio cardinale che per cavoli suoi dice una roba cioè insomma parlare con Salvini si può anche fare e questo dovrebbe essere come possiamo dire l'arbitro della prossima sette istituzionale fantastico il più esplicita è Repubblica replica Mattarella Ruini che è un dialogo tra la chiesa e Salvini non è possibile dice Mattarella secondo Repubblica in maniera più diciamo soffice più soft invece l'altro interprete del Quirinale Breda sulla Corriere della Sera dice che in realtà la critica di Mattarella a Ruini il cardinale Ruini che fece un'intervista proprio sul Corriere della Sera e che dice i cattolici democratici cioè i cattolici di sinistra non sono irrelevanti sull'ultima questione che vi voglio segnalare è la questione a parte la morte di questi tre tutti i giornali di cronaca ma voi sapete noi commentiamo più che la cronaca la politica su questa zuppa a meno che non sia quel cazzone là di Mc Donald che lì però c'è un fatto etico che viene licenziato perché è un rapporto consensuale ma ritorniamo alla politica Nicosia era l'assistente parlamentare di questo occhio nero che da lì da rifondazione comunista passa a Renzi e già questo vi fa capire il personaggio e dice io sono con lui ero un millantatore l'ho cacciato ho avuto a che fare soltanto 4 mesi con lui e non è così purtroppo perché è emerso un sms che oggi i giornali tutti citano in cui lei poche settimane fa si sente proprio con Nicosia che sta a casa di uno scarcerato mafioso legittimo probabilmente avrà pagato il suo prezzo con la giustizia e gli manda una serie di messaggi dicendo che il mafioso era uscito dal villaggio così veniva considerato il carcere dove lui stava insomma proprio mollato 4 mesi fa la senatrice che è passata da rifondazione a Renzi non lo è l'occhio nero e insomma l'occhio nero glielo stanno facendo i giornali io direi che per oggi è tutto le tasse sono invisibili e invece è molto visibile il sito nicolaporro.it per tutti quanti voi che vogliate approfondire le notizie di giornata ciao